Sono almeno sei morti nel disastro ferroviario di Risera a Filadelfia. Le ricerche sono ancora in corso. Un centinaio è feriti ancora in ospedale, otto dei quali in condizioni gravi. Nella gran parte dei casi soffrono di fratture multiple. Sulle cause dell'incidente non si sa ancora nulla. Il treno effettuava il collegamento tra Washington e New York, una linea molto frequentata, ma dall'infrastruttura piuttosto vecchia. Stiamo verificando i binari, la segnaletica, le operazioni effettuate dal treno, le condizioni meccaniche del convoglio e il comportamento umano, dice il vicepresidente dell'Agenzia per la Sicurezza dei Trasporti. Stiamo investigando in modo multidisciplinare per capire quali fattori abbiano causato questo incidente. Sei vagoni e il locomotore sono usciti dai binari. Una delle carrozze è completamente piegata a L. Un'altra è un ammasso di lamiere, tra le quali è estremamente difficile cercare i corpi. I collegamenti che passano per Filadelfia sono stati sospesi per tutta la giornata. Grazie, grazie. Grazie a tutti.